Il Consiglio Comunale è pieno delle facoltà, tutti presenti per la cosa, consentitemi prima di passare all'argomento di fare gli auguri al mio assessore Sessa, Paolo Sessa, e penso di interpretare il pensiero dei tutti. Nocera Superiore, Consiglio Comunale un po' acceso, questa sera perché siamo arrivati in tarda serata, iniziato alle 18.15, c'era da risolvere questa situazione dei lavoratori relativo allo spazzamento del Comune e quindi della città. Lei è intervenuto anche più volte, due volte durante il Consiglio Comunale a chiarire un situazione. Questi lavoratori avranno la possibilità di continuare a lavorare e in che modo? Innanzitutto va chiarito forse l'argomento perché si è finito da un tema all'altro, quindi da chi dovrebbe occuparsi del ciclo integrato di rifiuti a chi ad oggi espleta per conto di una società privata il servizio di pulizia e spazzamento delle strade sul territorio comunale di Nocera Superiore. Noi come amministrazione ci siamo posti un problema che è di carattere innanzitutto sociale, quello di poter garantire, rispetto ovviamente del contratto collettivo nazionale di lavoro, di settore, la possibilità del passaggio di gantiere. Quindi la possibilità in questo momento di difficoltà storico che questi lavoratori possano, dalla società attuale ad un'eventuale società giudicataria del servizio di spazzamento del territorio di Nocera Superiore, subentrare e quindi conservare una possibilità di lavoro. Ci siamo anche posti un altro problema, quello di organizzare in maniera più efficiente il servizio perché l'obiettivo dell'amministrazione deve essere anche quello di rispettare i tre criteri principi dell'attività amministrativa, economicità, efficienza ed efficacia. Quindi abbiamo cercato da un punto di vista sociale di andare incontro a un'esigenza che era quella dei lavoratori pur non avendo essi un rapporto diretto con la pubblica amministrazione ma espletando un servizio per conto di una società, ripeto, privata sul territorio di Nocera Superiore e poi l'altro aspetto, quello di poter garantire con degli efficientamenti, strumentazioni meccaniche la possibilità di avere più strade, più chilometri di strada pulite perché nello spazzamento che oggi viene espletato, una parte del territorio non era proprio prevista e non c'erano quegli accorgimenti che noi oggi andiamo a voler individuare con l'ufficio assetto del territorio che riguarda l'utilizzazione di una strumentazione meccanica che possa anche agevolare l'attività di questi lavoratori. Sempre in tema di lavoratori, c'è un problema in Nocera Superiore anche un po' annoso e vecchio rispetto agli LSU, i lavoratori in deroga, diciamo gli ex salvi per ricordarci un po' la vicenda. Cosa sta facendo il Comune per questi lavoratori e quali iter prossimi si possono approntare per aiutare questa gente? Chiariamo anche qui che sono innanzitutto solidale con questi lavoratori che sono in mobilità in deroga, lavoratori che credo debbano rimanere fuori da quella che può essere una discussione politica ma che non deve mai andare a strumentalizzare un disagio sociale. Anche in questo caso parliamo di lavoratori che a seguito di un progetto di mobilità con la Regione Campania si vedevano collocati sul nostro territorio. Noi oggi stiamo cercando, interagendo fino a ieri con la Regione, oggi aspettando la nuova istituzione regionale e i suoi vertici affinché possiamo riattivare, riavviare il ragionamento e attraverso la mediazione della CISL regionale, ne ringrazio pubblicamente il segretario regionale Lina Lucci per l'impegno profuso per questa nostra ambizione che è quella di poter eventualmente valutare un recupero di questi lavoratori all'interno di un percorso di formazione al lavoro legato agli scavi archeologici che possono diventare un patrimonio non solo economico ma anche occupazionale per la città di Nocella Superiore. Quindi quello che stiamo cercando di fare con le rappresentanze sindacali che assistono i lavoratori, con i lavoratori mobilità in deroga nei limiti di quello che come amministrazione possiamo fare e cercare di mantenere rapporti con le istituzioni a noi sovraordinate perché questa bozza di progetto che ne abbiamo avviata e che abbiamo chiesto che venga completata assieme alla CISL regionale e ad altre istituzioni possa dare uno spiraglio, una prospettiva quantomeno di formazione al lavoro attraverso l'utilizzo dei fondi sociali europei che vengono trasferiti attraverso la regione Campania. Quindi investire su questo col coinvolgimento dell'istituzione regionale, della CISL regionale, la segretaria Rinalucci, nella persona della segretaria Rinalucci e anche del Ministero dei Beni Culturali. Siamo in corso d'opera, allo stato attuale ci stiamo preoccupando anche di un'altra cosa che non dipende direttamente da noi, sollecitando spesso la regione che comunque si trova in un momento di stasi, quello della corrisponzione dell'indannità di mobilità che viene a loro conferita dalla regione Campania. Quindi stiamo sollecitando affinché questi lavoratori possano, almeno fino al mese di agosto, avere questa mobilità coperta dalla regione Campania e poi, se c'è la possibilità attraverso questo progetto, di portarlo avanti e di vederlo sponsorizzato da più soggetti istituzionali, costruire una prospettiva per questi lavoratori. Mi auguro che sia una prospettiva non soltanto per questi lavoratori, ma che nel disegno di una nocera superiore che nella pianificazione urbanistica va a valorizzare le sue risorse naturali, possa questa diventare anche un'occasione occupazionale.